Un posto al sole, la celebre soap opera ambientata nel pittoresco quartiere di Posillipo, è da quasi tre decenni un appuntamento fisso per gli spettatori di Rai 3. Le storie degli inquilini di Palazzo Palladini hanno sempre saputo catturare l'attenzione, tra passioni, drammi e intricati colpi di scena. Nel corso degli anni, innumerevoli personaggi sono transitati per la soap, lasciando un segno indelebile nel cuore dei fan. Ma ciò che di recente ha colpito il grande pubblico è stata una rivelazione fatta da una delle protagoniste più amate degli ultimi tempi, Rosa Picariello. Interpretata dalla giovane attrice napoletana Daniela Ioia, Rosa è entrata nella narrazione come moglie di Damiano Renda, poliziotto al servizio del magistrato Eugenio. Dal suo arrivo a Palazzo Palladini, grazie alla sua innata bontà, ha saputo conquistare non solo Giulia Poggi e sua figlia Angela, diventando la loro colf, ma anche il cuore di tutti gli altri inquilini. Eppure, dietro le quinte, la realtà era ben diversa. In una recente intervista rilasciata a spettacolomusicasport.com, Daniela Ioia ha condiviso le sue apprensioni iniziali sul set, a terro terrorizzata, ha confessato l'attrice. Entravo in una famiglia dove c'era già un forte affiatamento tra gli attori. La sua preoccupazione derivava dalla sfida di integrarsi in un cast già consolidato, dove ogni attore aveva il suo spazio ben definito. Tuttavia, queste paure si sono rivelate infondate. Il suo racconto offre una visione inedita di ciò che succede dietro le telecamere, ricordando a tutti che anche dietro ai personaggi amati ci sono esseri umani con le loro insicurezze e sfide. E Rosa Piccariello, o meglio, Daniela Ioia, ne è l'esempio perfetto.